Ciao carino Ciao Joe non è qui adesso Dice di incontrarlo da freddi a pranzo Capisco Dormivi quando sono entrata Peccato Magari un'altra volta Ciao Che spettacolo Vaffanculo Putta puttana Torna qui cazzo Se non sai guidare Statene a casa Al tuo posto Ehi non è la ragazza di Joker Beh una di loro comunque Tu sei venuta addosso alla mia macchina Io vengo addosso alla tua Guarda la mia macchina Cazzo Ehi amico Piantala E tu chi cazzo sei Uno a cui non piace che parli in quel modo a una donna Quindi chiudi quella fogna di merda e vattere finché sono di buon umore Mi hai capito bene Rosa è la tua ragazza per caso Beh se non mi paga lei Allora mi paghi tu Un'altra parola E ti spacco tutti i denti E ora levati dai coi Mi strozzo Ecco la parola in più Grazie carina Ti devo un favore Qualche volta fai un salto da me per una fetta di torta Sì grazie Ma adesso devo proprio andare Ti piacerà vedrai Ora però devo scappare Ci vediamo E' un'altra parola in Italia I metterani colpiscono il muro e i ricchiazzatori Ultimora Ultimora Autocerato di gioielli con la lago Benzani Ultimora I marini attaccano i bozima Ultimino vissi E vantende Vanno la stazione di dipto Ultimino vissi Ehi ragazzi Ehi Vito questo è Luca Gurino Vuole parlarvi Luca questo è Vito Molto rieto signor Gurino Non c'è bisogno di essere formali Chiamami Luca Siedete Vito Cosa le porto? Quello che ho preso io E muoviti Ho sentito del vostro incontro con gli irlandesi E' bella storia Cazzo E voglio congratularmi con voi due Per il lavoro fatto Salute Assalute Avete fatto un lavoro coi fiocchi Sono in pochi che hanno le palle per fare questa roba E adesso? Mi chiedo se siete pronti al passo successivo Sì sicuro Sarebbe? Sto parlando di eliminare qualcuno Solo perché qualcun altro gli punta contro un dito E ti dice rifarlo Questa è buona Il presidente Sì mi piace Ma stai Parlando dei cruchi Giusto? Sai E cattivi Non è quello che intendo io Capisci? Sì Capisco Bene Ci serve gente come voi In grado di eseguire gli ordini senza fare domande Gestite questo lavoro come l'ultimo E magari sarete accettati nella famiglia Ma prima dovete pagare la quota di ingresso E quanto sarebbe? Cinque mila a testa E' una fottuta fortuna Ehi Nessuno ha detto che costava poco Ma fidatevi I benefici compensano largamente i costi Lascerò decidere a voi Henry vi aggiornerà sul resto Ci vediamo più tanti Eccoti qua E' stato un piacere Hai già fatto quello che ti ho detto? Sì sì è tutto sotto controllo È quello che hai detto l'ultima volta Cerca di non deludermi De nuovo Capo io giuro Ora vieni con me Dobbiamo parlare di un altro affare Allora Harry di che lavoro parliamo? Devo far fuori uno Il contratto è mio ma mi serve aiuto Grazie Qui entrate in gioco voi Chi è il fortunato? Un ciccione che sta oltre il fiume L'abbiamo avvertito ma si crede Intoccabile E lo è? Beh Qualcuno ha già provato a farlo fuori E? Diciamo solo che l'hanno leggermente sottovalutato Leggermente quanto? Troppo E' un modo carino per dire che sono morti giusto? Ehi Noi non siamo quei cazzoni Ho affittato un appartamento di fronte a dove lavora Lo aspettiamo E appena quello stronzo si fa vivo Boom Tanti saluti Come facciamo? Con una MG42 E dove la prendiamo una MG42? Harry Sì? E' un veterano come te Ha un piccolo negozio d'armi provato a Kingston Può farti avere qualsiasi cosa La c'è un portano al bazzucca E non serve nessun cazzo di porto d'armi Ok Io e Joe andiamo all'appartamento Tu prendi la mitragliatrice da Henry a Kingston E' tutto pagato Degli solo che ti mando io Poi raggiungici all'appartamento A Sand Island L'edificio di fronte alla distilleria E' il 233 L'appartamento 233 Ci vediamo là fra un po' ragazzi Va bene, a dopo Buona fortuna L'edificio di fronte alla distilleria E' il 243 L'edificio di fronte alla distilleria 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 E' il 243 L'edificio di fronte alla distilleria Ok Entra Sì, chi è? È Rita Masino Mi ha mandato a ritirare il suo ordine Va bene, entra E là? Allora, sei tu quello di cui mi parlava Henry? Già Hai la sua roba? Bene Eccola qui MG42 Fatta in Germania La falce di Hitler La chiamavamo una bellezza Ben 12 chili Calibro 7,92 1200 colpi al minuto La più veloce al mondo Un nastro da 250 colpi Portata di 1200 metri Ed estremamente affidabile Non so cosa dovete sparare Ma a meno che sia in un cazzo di carro armato Beh, allora sayonara, baby Devo mostrarti come si usa No, grazie, le conosco Anch'io sono stato in guerra Va va Aspetta, mi prendi in giro? Aspetta, aspetta E dov'eri? Normandia? No, Africa Un attimo, fammi indovinare Operazione ASCII Ma dai In che unità eri? 504esimo parà Davvero eri un paracanutista? Ve la siete vista brutta, ho sentito No, non è stata una scampagnata Sono stato colpito e mi hanno mandato a casa Qualche medaglia? Parpolart e CVM Ehi, wow, una croce Sai, non le danno via per niente quelle Io ero in Normandia Siamo sbarcati a Utah Beach Anche lì non è stata una scampagnata Ma... E mentre scavalcavo un recinto al ritorno Mi sono cavato l'occhio col ramo di un albero Eh beh, è stato sufficiente per congedarmi Senti, devo proprio andare Va bene Ehi A proposito, sono Harry E io Vito È stato un piacere, Vito Un vero piacere Se ti serve qualcosa Sai dove trovarmi Ecco qui Spero che tu sia in macchina È grossa Buona fortuna Grazie, Harry L'arma è nella cassa E nel furgone fuori in cortile Ci sono mucchi di munizioni Prendi pure È già tutto pagato Ci vediamo, Vito Vito Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. puoi dovreste provarlo fai pure ma io non bevo sul lavoro ecco lì che arrivano sono un esercito vito fate qualcosa non possiamo gazzeggiare adesso aspetti che fai mi stanno sparando portafuttate vito fa qualcosa sei tu l'esperto coraggio il porco è da sopra non 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 Grazie a tutti. 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 Muoviamoci, il fuoco si sta diffondendo. Muoviamoci, il fuoco si sta diffondendo. Grazie a tutti. Oh, cazzo. Grazie a tutti. 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 Vito, come va? Vi ho portato i soldi per pagare i debiti di papà. Oh, Vito, che bello.